Un caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Oggi una sorta di appendice alla motivazione di ieri. Sono due motivazioni che riguardano più generalmente la natura umana, quindi ci invitano implicitamente a ricercare il vero senso della nostra vita, la vera direzione della nostra realizzazione, la vera dimensione del nostro successo. Ieri un re Creso, un altro grande re Ciro, oggi un ulteriore re sovrano nello specifico degli Assiri, siamo nel VII secolo a.C., e un altro re potente, ricchissimo, giudice e sovrano della terra, come direbbe il Salmo, che mostra tutta la sua umanità, la sua fragilità davanti alla consapevolezza di essere nient'altro che un piccolissimo granello di sabbia rispetto all'universo e rispetto agli dèi. E pensate che questa citazione si trova in un'iscrizione che risale all'epoca di Assurbanipal, siamo nel VII secolo a.C., e che sembra attribuirsi direttamente a lui come veramente un lamento, un monologo interiore, shakespeariano. Sentite cosa scrive, dice Assurbanipal, che non dimentichiamo regnava all'epoca su un impero all'apice della sua potenza, l'impero assiro che si estendeva dal Golfo Persico fino all'Egitto. Peraltro Assurbanipal è stato anche un sovrano estremamente illuminato, ha promosso la cultura, l'edilizia, la botanica, l'architettura e ha creato una delle più grandi biblioteche del mondo antico, grazie alla quale disponiamo di preziosissime informazioni di quell'epoca storica. Quindi un uomo non soltanto ricco, famoso, potente, sovrano, ma anche un uomo colto, ispirato, pieno di intenzioni costruttive, pieno di ideali e di una visione elevata della vita. Ecco cosa scrive, dice Assurbanipal in questa iscrizione. Ho fatto il bene per gli dèi e per gli uomini, per i morti come per i vivi. E allora perché malattia, crisi e perdite mi affliggono? Discordia civile e crisi familiare non si allontanano da me. Disordine e cattiveria mi assediano. Infelicità e cagionevolezza fiaccano il mio corpo. Finisco le mie giornate in pena e lamenti. Sono turbato persino il giorno di festa del Dio cittadino. La morte mi assedia. Notte e giorno cado in depressione e ansia. Sono esausto, o mio Dio. Da tutto questo al malvagio e fammi vedere la Tua luce. Un vero e proprio lamento di Giobbe sembra di ritrovare il celebre libro biblico, il celebre apologo biblico. E proprio lì forse si trova il significato di questo lamento. Proprio lì ritroviamo perlomeno, o possiamo ritrovare dalla nostra prospettiva, le cause dell'infelicità. Proprio lì nella mancanza di quella connessione profonda, vera, autentica tra l'individuo e Dio. Gli dèi non sono Dio. Il Dio non è Dio. Come dirà la Bibbia, gli dèi e le dèe sono statue di legno. Avete sentito un'altra inevitabile suggestione, magari dettata anche dalla traduzione. Non saprei dire diversamente, non conoscendo l'assiro. Però abbiamo sentito echi del Salmo, del libro dei Salmi. I Salmi di invocazione, i Salmi di richiesta di aiuto, i Salmi del giusto perseguitato che invoca Dio e chiede ma perché i malvagi trionfano e i giusti periscono. Dal punto di vista di Assurbanipal, anche lui è un giusto. Abbiamo sentito, è stato un sovrano non soltanto ricco e potente ma anche molto benefico per la sua gente. Ha fatto evolvere il suo popolo. E allora perché è depresso? Perché è in ansia? Perché è infelice? Secondo me tocca un punto molto preciso e un punto che riguarda nella mia esperienza per esempio anche me. Mi sono ritrovato in queste parole. Mi sono ritrovato nel fatto di pensare, di credere, di essere convinto di operare nel giusto e di trovarmi a fare più fatica, trovarmi ad avere più sofferenza, trovarmi a dover scalare più montagne per raggiungere anche soltanto una pianura, di aver fatto insomma molta più fatica di quella che pensavo, reputavo giustificabile. Proprio perché credendo di essere nel giusto, credendo di operare secondo la legge, pensavo di essere più meritorio, di avere un green pass diciamo per che mi permettesse di raggiungere prima gli obiettivi che mi ero posto. E ho la risposta. Potrei darla anche ad Assurbanipal, ma ormai sarà reincarnato in centinaia di altre esistenze e forse lo ha imparato da solo. La risposta è che per prima cosa bisogna capire veramente se si è in connessione, se si segue la legge, bisogna capire veramente se si sta attivando e continuando ad attivare quella energia spirituale nella propria vita e continuare a coltivarla e continuare a ricercarla e continuare a incrementare il proprio giorno con questa consapevolezza, in questa consapevolezza, con questa, in questa energia. Prima cosa. La seconda cosa è che anche se si ha la piena consapevolezza, se la si matura, la piena identità, vorrei dire così, io mi sento in questa fase della mia vita, in questa zona di evoluzione, anche se si ha la certezza di operare non soltanto eticamente sotto la legge, ma la consapevolezza che la legge esiste, che l'energia spirituale esiste, bisogna avere fede. Non so quale sia l'errore di Assurbanipal, so però che questa storia ci insegna due cose. La prima, che già sappiamo, è che non importa quanto sei potente, non importa quanto sei ricco, non importa quanto hai successo e qual è il livello raggiunto dell'apice della tua fama, notorietà o ricchezza. Questo non cambia assolutamente niente, perché arriva un momento in cui ti trovi di fronte a te stesso, ti trovi di fronte alla tua nuda faccia e quella nuda faccia, quell'essere nudo davanti alla tua coscienza, è tutto ciò che definisce la tua felicità, la tua riuscita, la tua realizzazione, la tua ricchezza, il tuo successo. Il secondo insegnamento è che non importa quanto pensiate di essere devoti, l'unica cosa che conta è continuare a sviluppare la fede. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani, per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.